Lanciare delle proposte sul tema dell'edilizia pubblica residenziale e avviare un confronto fra enti locali, regione, Parlamento e sindacati. Questo è l'obiettivo dell'incontro sul diritto alla casa di ieri pomeriggio organizzato dal Partito Democratico nella sala parrocchiale di Sant'Egidio al Tramontone. Il diritto all'abitazione non coincide con quello di costruire nuove case, occorre analizzarlo in maniera integrata. Così l'assessore comunale al patrimonio Dante Capriulo che ha diffuso alcuni dati sulla situazione alloggi a Taranto. Su 100.000 abitazioni la maggior parte di proprietà privata, divisa fra case affittate e oltre 10.000 case vuote. Poi ci sono gli alloggi dello IACP e 2.000 abitazioni del Comune. Il problema principale, dice Capriulo, è quello dell'emergenza abitativa, segue a ruota quello del contributo al fitto. Negli anni scorsi il Comune ha erogato oltre un milione di euro di contributi in aiuto di 2.000 famiglie affittuarie. La nuova finanziaria ha tagliato i fondi del 77%, passando da 140 a 33 milioni di euro. Il punto di partenza, come ribadisce anche l'assessore regionale alle politiche abitative Angela Barbanente, è la necessità di riformare la legge, la 54 dell'84, che dopo 27 anni risulta inadeguata. Dobbiamo riformare le politiche abitative, diciamo che noi le abbiamo anche già riformate nella pratica, perché se pensiamo all'esperienza dei PIRP, programmi integrati di riqualificazione urbana, se pensiamo alla rigenerazione urbana, se pensiamo all'edilizia per gli sfrattati, in realtà noi siamo partiti dalla pratica per poi andare alla riforma. Io sono uno di quelli che pensa che all'espansione bisogna mettere uno stop. Il problema, oltre all'edilizia, all'ERP, c'è il problema che si chiama Borgo e Città Vecchia. O si investe lì o della città si ha una idea sicuramente sbagliata del profilo non utile al futuro della stessa città. Ma al diritto alla casa corrispondono dei doveri e qui entrano in gioco amorosità, abusivismo o mancanza di manutenzione da parte degli assegnatari. Occorre educare i cittadini alla sottoscrizione dei contratti, al pagamento del fitto, insomma alla regolarizzazione. Grazie a tutti.